non so la moda perché penso come tantissime persone di avere quell'umiltà di non conoscere tutto il mondo che c'è qui intorno la posso raccontare e la conosco in realtà indirettamente perché noi pensiamo di essere totalmente strane al mondo della moda ma in realtà la moda è un qualcosa di primario non abbiamo la possibilità di uscire nudi no? e quindi la moda ci deve vestire, la moda è un bisogno primario quindi posso raccontarla, mi sento il dovere di poterla raccontare il vestito non è per forza qualcosa d'acquisto compulsivo e è quello che sta appunto nella nostra sfera più intima a contatto con la pelle e quindi è la seconda pelle e è quella che può anche farci cambiare quindi in realtà c'è un aspetto sociale pazzesco perché io semplicemente vestendomi posso diventare quello che non sono completamente posso convincermi di essere altro da me piano piano somigliare a quell'immagine che ho e questa è una cosa che a me affascina molto quindi è come se fosse una seconda possibilità che noi abbiamo tutte le mattine potendo indossare qualcosa che ci rispecchia o che non ci rispecchia che ci fa somigliare a quello che desideriamo essere il personaggio che racconto su Instagram è molto aderente a come sono io semplicemente la realtà raccontata su Instagram è una telecamera che si accende solo in determinati momenti della giornata quindi uno va a prendere gli highlights di quella giornata però in realtà è molto inerente soprattutto la comunicazione social nonostante il pensiero è che sia qualcosa di totalmente fasullo ma se parliamo di Instagram Instagram è istantaneo e non è facile essere fasulli H24 quindi in realtà più è inerente più ti somiglia anche questo e più riesci a farlo con grande efficacia a me piace raccontare tutto quello che vedo con gli occhi di un bambino quindi appunto non so la moda ma andiamola a scoprire e una cosa che mi piace tantissimo della moda è che questo mondo che sembra totalmente distante da noi in realtà è fatto di arte, artigianalità, di materia, materiali, tessuti che hanno tutti dei nomi che io assolutamente non conosco tra l'altro non capisco niente di quello quindi vado a vedere e sono molto molto affascinato perché poi è bello vedere le persone cioè una delle mie cose preferite è quando esce lo stilista che quindi prima ti sono uscite queste 20 modelle arroganti che non guardano niente non so come fanno a camminare dritte non inciampare in qualcosa e poi esce lo stilista super timido di solito sempre un po' ingobbito che arriva, va davanti ai fotografi e poi scappa e quello è quell'aspetto umano fantastico cioè queste persone che lavorano quasi totalmente nell'ombra quindi con una grande esteriorità ma poi loro non ce l'hanno fanno queste cose pazzesche ti partono queste basi da marre lo stilista è piccolissima che esce fa ciao e va via e questa è una cosa che mi piace tanto quindi c'è un aspetto umano e il rumore secondo me è un suono principalmente quindi è qualcosa di sonoro che è più alto di un sottofondo che c'è è qualcosa, un guizzo che è un picco in un diagramma quello secondo me può essere considerato rumore quindi non è per forza qualcosa di fastidioso è qualcosa che ti attira l'attenzione è un richiamo